Amici di Football News My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per fare il diario della nona giornata del campionato di Serie A. Un campionato che si dimostra oltre che senza una squadra che sembra possa farla da padrona assoluta, anche un po' strano, visti i risultati di certe partite, è su un livello medio tendente al bassino. Quest'anno vincerà la squadra che si dimostrerà più continua nel corso della stagione. Comunque, detto questo, parliamo un po' di questa giornata. Iniziamo dalla vetta della classifica, iniziamo dal Milan che vince 2-0 in casa contro la Fiorentina. Una vittoria lineare e tranquilla per i rossoneri, non era facile vista l'assenza di diversi giocatori, una su tutte quella del totem Zlatan Ibrahimović, anche se comunque c'è da dire che la viola ci ha messo del suo. Comunque, un Milan che ha iniziato bene la partita, subito avanti di due gol dopo neanche mezz'ora, ha sbagliato il rigore del possibile 3-0, però a parte questo, nel secondo tempo ho visto una squadra che ha gestito la partita con assoluta tranquillità, non ha corso nessun rischio. Buona prestazione direi da parte di tutti i rossoneri, bene la difesa, Calabria attento, Romagnoli ha segnato, Kier un baluardo insuperabile, centrocampo che sì è il solito giocatore che dà molta sostanza alla squadra, bene promosso poi anche Tonali, bravo sia in fase di interdizione, ha recuperato dei palloni e poi gli ho visto fare anche qualche buona verticalizzazione, Sanemakers ottimo sulla sua corsia di destra, per quanto riguarda la Fiorentina invece non ci siamo, non ci siamo proprio una squadra assolutamente lunga e slegata tra tutti i reparti, una difesa malissimo veramente in costante difficoltà, Caceres ha fatto una cappella dietro l'altra, centrocampo a due davanti alla difesa, lasciamo perdere, Riveri e Cagliecon assolutamente inconsistenti, Vlaovic là davanti ha ricevuto pochi palloni, a parte un palo non è mai stato praticamente pericoloso, insomma sto vedendo una Viola in difficoltà, che non mi dà l'idea di una squadra che possa completamente, che possa riprendersi o svoltare la stagione. Vince il Milan, vince poi anche l'Inter, Inter che vince 3-0 sul campo del mio Sassuolo, agguantando gli stessi neroverdi al secondo posto. una vittoria direi scontata, io me l'aspettavo, sapevo che la partita sarebbe andata in questo modo, una partita che è durata sì e no un quarto d'ora, Sassuolo che non è sceso in campo, o se è sceso in campo era assolutamente addormentato, una squadra proprio spaisata, in difesa, ok, Chiriches ha regalato due gol all'Inter, perché in uno ha fatto una cosa veramente indecente sul primo gol, nel secondo gol ha regalato calcio d'angolo come un pirla e poi ha fatto autorete, però, a parte questo, una partita che conferma come il Sassuolo contro certi tipi di squadre non può giocare con il 4-2-3-1, non può mettere davanti alla difesa un centrocampo leggero composto da Locatelli e Lopez, si doveva partire con un 4-3-3, poi ho visto anche gli esterni Berardi e Boga eterei impalpabili, là davanti Raspadori non ha le caratteristiche di Caputo, poco servito dai compagni di squadra, comunque sì, una sconfitta che ci sta, prima o poi doveva capitare, siamo sempre nelle parti alte della classifica, non facciamone una dramma, perché l'obiettivo del Sassuolo non è quello di vincere lo scudetto. Per l'Inter invece cosa c'è da dire? Una prestazione normale non è che ha fatto una partita stratosferica, ha saputo metterla subito sui binari giusti e poi ha pensato principalmente a gestire. un Inter che comunque l'ho vista compatta, solida, ben raccolta, ha corso pochi rischi, diciamo, vedendola così, non è che dici, quello lì è giocato da 8, quello lì è giocato da 9, hanno fatto tutti una partita più che discreta da 6,5-7. Diciamo bene la coppia d'attacco, una coppia leggera Lautaro-Sanchez, una ha fornito l'assist, l'altro ha segnato, però comunque li ho visti bene, una coppia d'attacco che fa vedere una buona intesa, una coppia mobile, e poi nota di merito anche per Darmian, un giocatore tanto criticato da molti, che però all'Inter si sta dimostrando un giocatore assolutamente apprezzabile, un giocatore da Conte direi, un giocatore magari non fortissimo, che però non si lamenta mai e che Conte riesce a valorizzare al meglio. Diciamo che è un po' come era Licksteiner alla Juve o come Eder in nazionale. Ad ogni modo, questa vittoria per l'Inter non la vedo come una svolta totale alla stagione, certo, l'Inter è una squadra forte, è una squadra quasi completa in tutti i reparti, un trofeo almeno lo potrà portare a casa, però insomma, credo che delle rogne da qua a fine campionato ci saranno ancora. Bella vittoria poi del Napoli, un largo 4-0 in casa contro la Roma, una vittoria giusta per il Napoli e per Napoli dopo quello che stanno passando in questo periodo. Una partita in cui ho visto proprio una Roma passiva, una Roma senza anima, una Roma senza idee, che è una gara storta in tutto e per tutto, ti si rompono due infortuni, prendi quattro gol di cui due su pappera del portiere, nell'ultimo poi la difesa è stata dribblata come dei birilli, un centrocampo inconsistente, in avanti Geco, Mkhitaryan e Pedro, tutti e tre slegati l'uno dall'altro. Comunque ci sta, Roma che non esce ridimensionata, tanti impegni ravvicinati, ha avuto diversi infortuni, può capitare che su dieci partite una particolarmente storta ce l'hai, però insomma non facciamone un dramma. Napoli che invece dal canto suo è apparso sicuramente più concentrato, più determinato, più motivato, più voglioso rispetto ai giallorossi. Buona la fase difensiva con Kulibaly e Manolas, molto bene il centrocampo, reparto in cui la squadra secondo me ha giocato meglio, ho visto un buon Demme davanti alla difesa, che ha fatto una buona partita di schermo, ha recuperato dei buoni palloni, ha dato equilibrio alla squadra. Fabian Ruiz, giocatore più tecnico del centrocampo del Napoli, ha segnato poi il gol del 2-0. Bene poi anche Milik, che ha fatto un buon lavoro di raccordo, ha fatto un po' da cerniera tra centrocampo e... Zieninski, scusate, non Milik, che ha fatto un buon lavoro di raccordo, ha fatto una buona cerniera tra centrocampo ed attacco, gli ho visto delle buone percussioni. Insigne trascinatore del Napoli, ha segnato un bellissimo gol su punizione, anche se comunque c'è da dire che Mirante si è tuffato un attimino in ritardo, ha poi fornito l'assist per il gol di Fabian Ruiz, però comunque in generale ottima prestazione di Lorenzigno, del capitano del Napoli, sicuramente il migliore in campo. Mertens, a parte il gol, non mi ha particolarmente convinto, comunque sia un Napoli che vince, che risale in classifica, una squadra che deve trovare un po' più di costanza e continuità se vuole davvero arrivare fino in fondo, perché comunque questo Napoli, in questo campionato, ha tutto per essere una delle protagoniste principali. Juve, che invece non va oltre il pareggio, uno a uno in casa del Benevento, una partita che mi fa fare prima due riflessioni. La prima è che, fino a qualche anno fa, quando vedevo la Juve, vedevo tanti giocatori che ti potevano segnare e far vincere una partita. Quest'anno, a parte Morata e Ronaldo, non ne vedo. E altra cosa, se neanche col Benevento riesci a vincere senza Ronaldo, allora la società dovrebbe farsi un paio di domande sulla squadra veramente imbarazzante che ha costruito l'ultimo anno, che ha costruito negli ultimi anni. una Juve veramente leziosa, molle, superficiale, che ogni qualvolta va in vantaggio, poi va in letargo e puntualmente viene pareggiata. Gli unici che salvo sono Morata per il gol, ne ha sbagliato qualcun altro, però è uno che si fa veramente un mazzo tanto per la causa. Bene, poi anche Chiesa, assist e frizzante sulla corsia di destra, poi per il resto veramente tutti bocciati. Un quadrado a ruffone, un centrocampo senza personalità. Arthur ha regalato la palla che ha portato al pareggio del Benevento e come continuo a sostenere, come avevo già detto quest'estate, non è quel centrocampista che dà quella qualità in più al centrocampo di una squadra. Non è un leader, è un giocatore normalissimo, non è niente di che. Dybala poi ormai è un caso perso, lasciamo perdere. Benevento che dal canto suo ha giocato una partita basata sull'aggressività, sull'intensità, è calata un po' nel finale, però comunque alla fine non ha rubato niente. Ecco, se devo trovare un appunto è che ho visto un Lappadula troppo lasciato solo là in avanti, per carità ha fatto a sportellate con la difesa della Juve, però insomma io gli affiancherei un altro attaccante, passerei a giocare con il 4-3-1-2 se fossi in zaghi. Tra le altre c'è poi bella vittoria Gagliarda 2-0 dell'Ellas Verone in casa dell'Atalanta, Atalanta con la testa alla prossima partita di Champions League ed ancora le scorie della strepitosa vittoria di Liverpool. Altra squadra con la testa alla Coppa è la Lazio che cade 3-1 in casa contro l'Udinese. Tra le altre poi continua il momento positivo dello Spezia che pareggia in extremis 2-2 sul campo del Cagliari. Mentre per quanto riguarda la coda della classifica sempre più ultimo il Crotone che perde anche a Bologna 2 punti in 9 giornate ok il campionato è ancora lungo però insomma vedendo un po' la rosa del Crotone vedendo anche un po' il tipo di prestazioni che ha fatto quelle volte che l'ho visto giocare insomma credo che ci saranno veramente molti problemi a salvarsi. in coda della classifica poi comunque qua la situazione è ancora in divenire ci saranno sicuramente dei capovolgimenti di fronte le squadre sono lì raccolte alcune un po' a sorpresa il Toro pareggia 2-2 in casa contro la Sampdoria e continua a rimanere lì a ristagnare nelle nelle zone basse nelle sabbie mobili bella vittoria invece del Parma 2-1 in uno scontro diretto contro il Genoa che con questa sconfitta scivola al penultimo posto in classifica va bene ragazzi questo è stato un po' il riassunto dell'ultima giornata di Serie A fatemi sapere cosa ne pensate e come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube a seguirmi su Facebook a seguirmi su Instagram a lasciare un commento a lasciarmi piace a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfera detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao a tutti